Ciao a tutti! Dopo un periodo d'assenza siamo tornati con un nuovo video e quindi ecco questo video semplicemente per dirvi che non siamo spariti ma stiamo seguendo numerose novità novità legate a contenuti, collaborazioni ma non voglio dirvi troppo adesso quindi comunque continuate a seguirci perché anche se non abbiamo come prima una scaletta ben definita cercheremo per quanto possibile di caricare ancora dei video questo mese e poi appunto con marzo partiremo con tutto un progetto nuovo eccoci come potete evincere dal titolo oltre all'annuncio vi faccio vedere anche una magia nuova, una magia che si fa con quattro assi che lascio in cima al mazzo chiediamo all'ospettatore di dirci stop mentre facciamo scorrere le carte supponiamo che ci ferma qua andiamo a prendere la carta la quale ci ha fermato in questo caso l'otto di picche e rimettiamo l'otto di picche nel mazzo perché? perché ora utilizzerò i quattro assi per andare a riprendere nel centro del mazzo l'otto di picche attenzione sarà veloce voilà e una volta che hanno preso l'otto di picche non c'è più bisogno degli assi quindi possono tranquillamente tornare in cima al mazzo ed essere utilizzati eventualmente per un'altra magia con questo è tutto per adesso comunque continuate a rimanere sintonizzati e ci vediamo presto